Si svolgerà giovedì 26 maggio alle ore 20 presso l'oratorio San Giovanni Paolo II l'attesissimo faccia a faccia tra i candidati alla carica di sindaco della città di Agropoli. Per Massimo Laporta, Roberto Mutalipassi, Raffaele Pesce e Delvira Serra si è predisposto un confronto all'americana con domande e tempi stabiliti per ciascun candidato, un'iniziativa che nasce dalla sinergia tra le due realtà maggiormente rappresentative a livello locale, Cilento Channel e Info Cilento. L'evento andrà in diretta web su due portali informativi, su Facebook e sul canale 636 del Digitale Terrestre. A sfidare i quattro candidati sulle questioni più scottanti per la città, quattro giornalisti delle due testate, Raffaele Giaccio e Vitorizzo per Cilento Channel e Sergio Pinto ed Ernesto Rocco per Info Cilento. Il confronto si preannuncia come il momento clou di questa campagna elettorale che esalta anche il ruolo dell'informazione indipendente come servizio pubblico per aiutare i cittadini a una scelta sempre più libera e consapevole.